Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6 la settimana. Dopo primo maggio, per la prima volta dopo due anni, via le mascherine all'interno di bar e ristoranti. Nel servizio vediamo regole contenute nell'ordinanza firmata dal ministro per la salute e speranza. Vediamo. Dal primo maggio, prendere un caffè o mangiare al ristorante sarà come prima della pandemia. Infatti, con la nuova ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza, non ci sarà più bisogno di indossare la mascherina nemmeno per arrivare al tavolo o recarsi in bagno. Lo stesso per la spesa al supermercato. Girare tra gli scaffali e andare in cassa senza mascherina si può. Un messaggio di fiducia nei confronti dei cittadini. Lo ha definito all'indomani della firma il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Decade l'obbligo di indossare la mascherina anche sui luoghi di lavoro, a eccezione di chi opera nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le RSA, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali, per anziani anche non autosufficienti. Rimane necessaria per entrare negli ospedali e visitare i parenti negli orari di visita. Qui l'obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre 2022. Mascherina obbligatoria fino al 15 giugno anche per chi utilizza il mezzo pubblico, dove non basta una protezione chirurgica o di stoffa, ma serve la FFP2, come anche sui mezzi a lunga percorrenza aerei, traghetti, treni, pullman e agli scafi. Via libera invece all'accesso senza protezione, funi vie e agli impianti di risalita. A scuola invece non c'è stato il libera tutti, qui le mascherine continueranno a essere utilizzate fino alla fine dell'anno scolastico, come già previsto dal decreto del marzo scorso. Capitolo Green Pass. Il certificato verde dovrà essere esposto fino al 31 maggio da chi entra nel territorio italiano, mentre non serve più alcuna certificazione per alloggiare in albergo, per andare in palestra, per frequentare luoghi come piscina, centri benessere, parrucchieri, centri estetici, musei e teatri. Nessuna novità anche per gli spettacoli al chiuso, fino al 15 giugno infatti i dispositivi di protezione individuale saranno obbligatori in sale teatrali, sale da concerto, sali cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo. Mentre per gli spettacoli all'aperto bisogna comunque avere la mascherina con sé e metterla in caso di assembramenti. Stesse regole che saranno attuate anche per gli eventi sportivi. Con la bella stagione che tarda ad arrivare il virus non ne vuole sapere di allentare la presa, così l'utilizzo della mascherina resta a discrezione sia durante lo shopping sia al ristorante che sui posti di lavoro, dove i datori possono fino al 15 giugno decidere in autonomia se trasformare la raccomandazione in obbligo. Nuove norme anche per il cratere del 2009 o saremo costretti a fermare la ricostruzione. Lo ha detto il presidente dell'Ance, l'Aquila Fratale, che è intervenuto su caro prezzi dei materiali che sta paralizzando il settore dell'edilizia. Calmierare il rincaro dei materiali e adeguare i valori parametrici. Queste le azioni che il governo dovrà intraprendere, altrimenti la ricostruzione dell'Aquila si fermerà. È netto il presidente della territoriale dell'Ance, l'associazione di costruttori edili, che parla di stop ai cantieri. L'orientamento dell'Ance è fermare i lavori perché un'impresa non può sospendere, ferma i lavori. Significa che si paralizzeranno. È inutile che arrivano i finanziamenti. Arrivando i finanziamenti non si possono cantierizzare e si fermeranno i lavori. Giovedì scorso il commissario straordinario per il cratere del centro Italia, Legnini, ha firmato un'ordinanza, che dovrà essere approvata dalla Corte dei Conti, con cui stabilisce un prezziario unico e alza i contributi statali del 20 e del 25% rispettivamente per gli edifici residenziali e industriali. Ora si attende un decreto legge che riguardi anche il cratere del 2009 per sbloccare un settore paralizzato in primis dall'incertezza. Se non arriveranno risposte entro dieci giorni, fanno sapere dal Lance, la ricostruzione si fermerà. Da una parte c'è il finanziamento per il centro Italia che è sempre del governo, dall'altro addirittura dal 2009 che è finanziamento sempre del governo. Come si possono confrontare questi due sistemi? Che uno si confronta col 20% e l'altro non si sa con quale percentuale. Se non si raggiungono i stessi parametri, l'Aquila si fermerà, la ricostruzione del 2009 si fermerà con chiarezza e con determinazione. Se dovessero giungere risposte dal governo, la ricostruzione aquilana, dice Frattale, potrebbe concludersi nel giro di quattro anni. I rincari intanto, per alcuni materiali prezzi sono più che raddoppiati, rallentano i lavori, mettendo a rischio anche i finanziamenti del PNRR. Per utilizzare i fondi europei, infatti, i lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026. La richiesta dei costruttori è anche quella di prorogare il super bonus, che ha un ritorno considerevole per l'economia del paese. E il bonus, dicono dal Lance, non c'entra niente con l'aumento dei prezzi, che ha origine anteriore all'introduzione della norma. Ma come? Qui si ferma un pezzo di autostrada e ci sono 150 licenziamenti, figuriamoci, ha riattivato 50.000 maestranze il super bonus. E poi stiamo rendendo sicure, perché con l'efficientamento energetico c'è anche quello che è un miglioramento sismico. E questo è poco che lo Stato domani per le calamità non deve più stanziare miliardi, miliardi, miliardi a ritrovarci a queste condizioni. Saranno demolite e ricostruite tre palazzine Ater pericolanti a Ortona. I pilastri sei mesi fa avevano ceduto, costringendo gli inquilini a lasciare gli appartamenti. Dall'indagine che ne seguirono venne fuori che la costruzione era di forme del progetto iniziale. Vediamo. Chi ha realizzato le palazzine ha deciso di non seguire il progetto. E' questa la ragione dietro la tragedia sfiorata lo scorso 6 ottobre a Ortona. In contrada a Fonte Grande, i pilastri di un fabbricato Ater avevano ceduto nel cuore della notte, costringendo 13 persone che abitavano negli otto appartamenti a fuggire in strada, abbandonando lì i propri beni. In realtà probabilmente, certamente le carte hanno restituito dei pilastri realizzati in maniera di forme rispetto ai progetti iniziali. Parliamo di vicende ben più vecchie di 40 anni. Molti dei protagonisti sono passati a miglior vita, quindi non sono nemmeno più ascoltabili imprese, progettisti, eccetera. Nei giorni successivi al cedimento dei pilastri furono sgomberate anche altre due palazzine adiacenti. Complessivamente sono 24 le famiglie che da oltre sei mesi non mettono piede in casa propria. E' stato brutto, brutto proprio, brutto proprio. Purtroppo, aspettiamo, vediamo che ci dice qua, che dice, che dicono, non lo so. Vediamo un po' di prendere qualcosa, qualcosa, qualcosa. Quasi tutto voglio prendere io. Da allora Ater Chieti, l'ente pubblico che gestisce 2.400 alloggi popolari in 27 comuni, ha speso circa 720.000 euro per la sistemazione delle persone sgomberate. Nei prossimi giorni si chiuderà il bando per i lavori di demolizione e ricostruzione, che saranno finanziati grazie al super bonus, misura che Ater chiede di mettere a sistema, perlomeno per l'edilizia pubblica. Sono operazioni, diciamo, da milioni di euro, da finanziare con il decreto 34 del 2020, quindi, diciamo, con i benefici del 110. Riguardano, appunto, andremo veloci perché riguardano la demolizione e la ricostruzione. Abbiamo preso, avevamo preso l'impegno con queste famiglie e con noi stessi, di restituire 24 alloggi nuovi nel giro di 18 mesi, barra massimo 24 mesi. Oggi intanto il fabbricato instabile è stato puntellato e nei prossimi giorni gli inquilini potranno tornarci a recuperare alcune cose. Per questa vicenda il presidente di Ater Chieti, il responsabile tecnico e il legale rappresentante dell'azienda, che poco prima del cedimento aveva eseguito lavori di manutenzione, erano stati indagati con l'ipotesi di reato di delitto colposo di danno. Il tutto, però, si concluse con l'archiviazione. Bando alle polemiche e avanti per il progetto di abbattimento e ricostruzione del ferro di cavallo a Pescara. Lo ribadisce il primo cittadino, Carlo Masci, che spiega come nell'area del quartiere Rancitelli, sorgeranno nuovi appartamenti e spazi verdi. Ma intanto io penso che la città ancora non ci creda a una cosa del genere perché sembra una cosa impossibile riuscire ad abbattere il ferro di cavallo che da sempre è un grumo mefitico in questa città, considerata la cosa più negativa anche a livello nazionale. Noi, come le formichine, siamo andati avanti mentre gli altri facevano i tour televisivi dicendo che tutto andava male abbiamo liberato gli appartamenti e oramai sono quasi tutti vuoti perché abbiamo risistemato in altri alloggi coloro che avevano titolo per avere l'alloggio abbiamo messo fuori gli abusivi quindi entro fine maggio tutto quel palazzo sarà completamente svuotato poi l'ater potrà provvedere alle operazioni dell'abbattimento adesso come fanno quelli del no ad ogni costo a continuare a dire che questa è un'operazione sbagliata ovviamente sanno che non è sbagliata sanno che l'operazione è un'operazione troppo importante e troppo grossa però lo devono dire perché sono i fautori del no adesso che cosa dicono ma l'intervento che si farà successivamente non è un intervento di vera riqualificazione invece è un intervento di grandissima riqualificazione dove abbatteremo e non abbatteremo solo il ferro di cavallo ma abbatteremo anche altri tre fabbricati che sono pericolanti da 12 anni a Via Lago di Borgiano a Via Lago di Borgiano dove abbatteremo da una parte realizzeremo una piazza e al ferro di cavallo realizzeremo al posto di 110 appartamenti 53 appartamenti ma come li realizzeremo? appartamenti di qualità perché non sta scritto da nessuna parte che le case di edilizia residenziale pubblica debbano avere per esempio i balconi di un metro e venti e non possano averli di due metri e cinquanta come invece noi li realizzeremo perché dopo il covid il paradigma delle case è cambiato totalmente oggi occorrono spazi privati ampi anche all'esterno per poter vivere all'esterno occorrono spazi pubblici ampi per chi vuole vivere invece in mezzo alle persone occorrono case che abbiano una efficienza energetica massima occorrono case che abbiano verde questo noi realizzeremo realizzeremo piazze realizzeremo case con balconi ampi con piante, con verde efficienti dal punto di vista energetico e autonome dal punto di vista digitale quindi case che potrebbero stare a piazza Salotto liberato accetto chirurgo ed ex assessore al comune di Chieti da questa settimana è il primario dell'unità di chirurgia oncologica della Santissima Annunziata tra i primi obiettivi fa ripartire la chirurgia con nuove tecniche grazie ai sofisticati robot vediamo l'ospedale di Chieti è pronto a ripartire grazie alle tecnologie robotiche commenta così la sua nomina liberato a Ceto da ieri direttore dell'unità complessa di chirurgia generale oncologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti sulle prospettive del nostro comune teatino a Ceto non ha dubbi Chieti l'ospedale di Chieti in particolare ha grandi professionalità in tutti i settori e ha anche dotazioni e risorse importanti faccio l'esempio il robot Da Vinci che è un sistema che consente di operare con estrema precisione in tutti i settori non solo della chirurgia generale e che consente anche di fare interventi spingendosi oltre certi limiti perché si arrivano in regioni molto piccole più difficili da curare e da trattare solo con la chirurgia poi c'è anche la laparoscopia e anche altre tecniche che consentono di offrire una risposta in tutti i campi ma soprattutto di dare chance e possibilità che molti pazienti nel passato hanno cercato altrove io mi auguro che questo si possa verificare e che ciò sia per i cittadini di Chieti e in particolare anche della regione Abruzzo una ottima possibilità per curarsi e per evitare di iniziare i famosi viaggi della speranza specializzato in chirurgia generale vascolare aceto ha alle spalle più di 30 anni di attività nel corso dei quali si è perfezionato in flebologia laparoscopia chirurgia pancreatica e bariatrica formazione continua ed edizione al proprio lavoro gli sono valse da sempre la riconoscenza dei pazienti che ancora oggi lo ringraziano è una nomina che mi riempie di orgoglio in quanto io sono un figlio di questa terra di questa città sono nato a Chieti qui a Chieti mi sono formato professionalmente sono nato appunto nell'ospedale di Chieti ho studiato qui ho fatto due specializzazioni ho fatto vari corsi in giro per il paese per l'Italia anche per l'Europa e finalmente oggi con questa nomina che mi ne orgoglisce mi rende ancora di più Teatino un uomo di questa città posso dare un contributo a un bisogno fondamentale del cittadino che è quello di essere curato spero di dare tante aspettative e tante possibilità a tanti cittadini di Chieti e anche fuori da Chieti e da questa regione gli OS che hanno lavorato nel periodo della pandemia per la ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti hanno manifestato sotto alla sede dell'assessorato regionale alla sanità dopo la scadenza dei contratti al 30 aprile vediamo gli operatori sociosanitari interinali che hanno lavorato per due anni nel corso della pandemia per la ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti al 30 aprile scorso si sono visti non prorogare i contratti questa mattina a Pescara si è svolto un sit-in di una rappresentanza degli operatori sociosanitari che hanno chiesto invece la proroga dei contratti stessi siamo quegli operatori sociosanitari mandati a casa senza un avviso un avviso un preavviso senza nulla noi stavamo svolgendo il nostro regolare turno di lavoro quando il 30 mattina alle 11 e 10 ci è arrivata una mail dove comunicava che quello era il nostro ultimo giorno di lavoro senza una spiegazione senza un motivo e senza niente eroi fino a quando gli siamo serviti ad oggi siamo stati usa e getta buttati via fuori senza nessuna giustificazione nessuna cosa chiedete a questo punto rivolgiamo il nostro lavoro il nostro umile lavoro perché noi abbiamo tutti lavorato umilmente e abbiamo portato i nostri pazienti qualcuno purtroppo è morto ma noi l'abbiamo portato su dignitosamente c'è gente che qua dentro ha lavorato per tre anni sempre con l'agenzia interinale e oggi è fuori gente che sta qui da un anno e oggi è fuori gente che lavora da sei mesi e oggi è fuori il vicepresidente della commissione sanità della regione Abruzzo Francesco Taglieri al termine dell'incontro avuto con l'assessore alla sanità Veri ha lasciato poche speranze agli OS parlando di possibili perdite di ulteriori posti di lavoro nei prossimi mesi l'incontro con la Veri è andato nella direzione che tutti quanti si aspettavano naturalmente ha preso un impegno che porterà al tavolo la prossima settimana ma un impegno che non potrà essere rispettato purtroppo la morsa di quelli che sono i tetti di spese 107 milioni di euro di disavanzo iniziano ad avere il loro peso alla fine della pandemia ci troviamo in una situazione che non saranno gli unici loro lavoratori che non avranno il rinnovo del contratto ma ce ne saranno tanti altri questo è il vero problema purtroppo il periodo della propaganda non ha più spazi per poter essere condiviso tutte le chiacchiere che sono state fatte in passato oggi si scontrano contro una dura realtà saranno diversi gli eroi che da qui a breve torneranno a casa e resteranno senza lavoro sicuramente non ci sono rassicurazioni anti la situazione da qui ai prossimi mesi vedrà tante altre persone a cui non verrà rinnovato assolutamente il contratto il CIPES ha bocciato il piano economico finanziario redato dal commissario per A24 e A25 sventato così l'aumento del pedaggio del 375% entro il 2030 ma ora è tutto da rifare il CIPES ha detto no al maxicaro pedaggi del 375% delle A24 e A25 il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha bocciato il piano economico finanziario proposto dal commissario Fiorentino nominato dal Consiglio di Stato per far fronte ai gravi ritardi ministeriali il PEF che riguarda strada dei parchi infatti è scaduto nel 2013 da allora ci sono stati tre commissari e 18 ipotesi di PEF avanzate dalla società del gruppo Toto l'ultima bozza quella di Fiorentino era considerata irricevibile da tutti gli enti prevedeva aumenti dei costi di percorrenza per gli utenti del 16% all'anno fino al 2030 anno in cui scade la concessione la bocciatura decretata dal CIPES però non accontenta nessuno i sindaci dei comuni tra Lazio e Abruzzo attraversati dalle A24 e A25 che avevano protestato ai caselli parlano di ennesimo mezzo risultato dal 2023 infatti scatteranno comunque gli aumenti del 34% già due volte rimandati e la sensazione è che il problema non sia risolto ma solo posticipato della stessa opinione l'amministratore delegato di Strada dei Parchi Riccardo Mollo che da un lato plaude alla proroga infatti così ci sarà più tempo per trattare la revoca della concessione dalla quale il gruppo Toto otterrebbe 2 miliardi e mezzo di risarcimento dall'altro però ritiene che le emergenze del presente ricordano a tutti che il tempo è scaduto il PEF infatti oltre a scongiurare il caro pedaggi dovrà consentire lavori di messa in sicurezza i cui ritardi stanno già causando il licenziamento degli operai impegnati nei cantieri si attende l'adeguamento sismico delle infrastrutture classificate come strategiche dalla protezione civile a seguito del sisma del 2009 mentre sono in corso inchieste da parte di 4 procure sul degrado dei viadotti e la loro mancata manutenzione ma non solo il PEF dovrà prevedere anche misure per il contenimento degli attraversamenti della fauna selvatica sono 70 infatti gli incidenti che nel 2021 sulle A24 e A25 hanno coinvolto le specie che abitano nei pressi di quella che non a caso si chiama strada dei parchi nei primi mesi del 2022 ne sono stati già 33 di cui 7 hanno coinvolto animali di grandi dimensioni l'ultimo incidente è avvenuto ieri mattina vicino Pescina quando un camion ha investito un cervo il leso il conducente morto l'animale è arrivato l'accordo dei sindacati con la TUA l'azienda di trasporto unico abruzzese intanto è stato presentato il piano strategico degli investimenti per i prossimi anni fino al 2024 nuove assunzioni di personale attua grazie all'accordo con i sindacati raggiunto ieri sera la notizia arriva nel giorno in cui l'azienda in house della regione abruzzo presente il piano strategico degli investimenti per i prossimi due anni dopo un periodo di polemiche dopo diversi anni che non si riusciva ad arrivare a una contrattazione c'è finalmente un accordo con i sindacati c'è stato un confronto serrato ma alla fine le posizioni hanno trovato un punto di caduta condiviso e naturalmente ne beneficeranno i lavoratori già presenti in azienda ci sarà per quello che riguarda il part time il trasbordo nel full time e questo avviene contestualmente ai contratti che si sono fermati si sono firmati in questi giorni che hanno visto l'assunzione di 50 da professionalizzare la seconda parte del contratto che era quell'oggetto di polemica e che rivestiva il bando che faceva riferimento ai professionalizzati ha avuto anch'esso una valutazione che alla fine in termini di mediazione ha fatto sì che da un lato l'azienda concedesse su alcune richieste sindacali dall'altro che il sindacato riconoscesse l'abbondà di quello che era il percorso che è stato effettuato è una cosa importante perché in questo momento creare le condizioni per l'assunzione di oltre 100 persone come avevamo preconizzato e come stiamo facendo diventa un dato in una regione che soffre oggettivamente il problema della disoccupazione di preminenza oggettivamente importante Tua l'azienda di trasporto unico abruzzese ha presentato il piano strategico degli investimenti 115 milioni di euro investiti che consentono all'azienda di investire su nuove risorse umane e di rinnovarsi per gestire le sfide del mercato sostenibilità innovazione e valorizzazione del personale per rispondere ai nuovi trend della domanda il piano è quello illustrato prevederà il più grande intervento che è stato realizzato negli ultimi anni sia nel rinnovo del parco rodabile adobus nel rinnovo del parco rodabile treni nell'assunzione di conducenti ma anche di non conducenti erano anni che non si faceva concorso per personale amministrativo insomma ci sarà un'immissione di nuovo capitale quindi nuovi investimenti e il nuovo lavoro quindi assunzioni soprattutto di giovani per quanto riguarda il PNRR per quanto riguarda il riparto cosa si prevede? il riparto è dei grandi investimenti in infrastruttura dove noi saremo soggetti comparse perché se ne occuperanno altri enti sul PNRR parte investimenti usufruiremo di investimenti che andranno a potenziare il rinnovo del parco rodabile le marinerie italiane in subbulio per il caro gasolio ieri un incontro a Laurum di Pescara per fare il punto della situazione e decidere un'azione comune da porre in essere questa mattina a Pescara a Laurum ci sono i rappresentanti di tutte le marinerie d'Italia Lucio Di Giovanni insomma il problema è sempre lo stesso il caro gasolio siete arrivati in un momento di non ritorno cosa siete decisi a fare che cosa farete se non ci sarà qualche risposta da parte del governo siamo al punto di con l'incasso non riusciamo a pagare nemmeno le spese stiamo lavorando rimettendoci in sostanza con la speranza che non succeda niente non ci succedano avarie danni alle barche anche al porto che già stanno tutti bene come sta la situazione per cui è ora di decidere di che morte morire perché qui a queste condizioni è una lenta agonia cerchiamo stiamo annaspando nell'acqua insomma non c'è possibilità di salvarsi e quindi qua con quasi tutte le marinerie d'Italia si sta affrontando insieme l'argomento principale che è il caro gasoglio perché tutte le marinerie chi più chi meno ce l'hanno i problemi da sempre ma quello quello attuale il caro gasoglio è quello che ci ha messo in ginocchio e se non proviamo non troviamo una strada qualcuno che prenda provvedimenti qualcuno che ci possa aiutare in qualche maniera siamo costretti a fermarci tutti perché non è non è più stiamo lavorando gratis adesso se se si va avanti così abbiamo i giorni contati tutti i più bravi i meno bravi purtroppo siamo segnati a queste condizioni ma uno sciopero potrebbe essere la soluzione? uno sciopero forse sarà necessario per farsi sentire perché noi siamo abbandonati da tutti siamo siamo un branco di pecore sciolte senza non dico un pastore ma almeno un cane che ci raggruppi che ci dia indicazioni per poter risolvere la cosa la questione la questione è questa adesso vedremo ognuno dire la sua a seconda pure le necessità delle marinerie non sono tutte uguali chi c'è un problema chi c'è un altro i trasporti logistica tutte queste cose qua quindi il discorso è abbastanza complesso vediamo cosa verrà fuori stamattina adesso cambiamo argomento parliamo di sport questa sera all'Adriatico il Pescara torna in campo per la gara di andata del terzo turno playoff ascoltiamo le parole del tecnico Luciano Zauri 180 minuti ok però è chiaro come si dice ragioniamo partita per partita adesso abbiamo questo primo round dove ci andiamo a misurare con una squadra che ha fatto molto bene il proprio girone una squadra tonica fisica dinamica non a caso è arrivata terza per cui una squadra che è sicuramente in palla ha avuto due partiti in meno nelle gambe che non è un dettaglio ma noi siamo pronti quindi niente alibi come al solito noi ce la giochiamo alla grande siamo una squadra forte però è chiaro sarà sempre quel campo a dire la sua nessun problema da questo punto di vista dal punto di vista fisico stanno tutti tutti bene quindi cascatore insomma i noti i noti non è questo punto di vista nessun tipo di problema il ballottaggio me lo porto però stanno bene stanno bene Franco è entrato benissimo l'ultima partita Jacopo ha fatto una grande partita e quindi insomma abbiamo un'arma in più nel nostro arco ma allora dal punto di vista di atteggiamento credo che tutte le squadre possano migliorare perché insomma oggi nel gioco del calcio appunto se non hai questo tipo di voglia di vincere o di recuperare un risultato negativo non puoi andare da nessuna parte e la squadra che ce l'ha ha nel proprio corte questo tipo di discorso anche se fa della qualità probabilmente del proprio aspetto migliore quindi da questo punto di vista forse qualcosina concede alle altre però ripeto abbiamo tante qualità e se non dobbiamo dimostrare quelle sicuramente giocheranno giocatori che hanno partecipato in ultime gare con continuità quindi da questo punto di vista sono costretto a cambiare forza maggiore per quanto riguarda Drudi per l'infortunio però in generale ripeto andranno in campo giocatori che hanno giocato in ultimo periodo assolutamente noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di vincerla con le nostre caratteristiche dove le nostre qualità cosa vuol dire vuol dire che ci saranno dei momenti in cui subiremo sicuramente sì perché la squadra è forte ma sono dei momenti in cui avremo noi il pallino come si fosse l'ultima partita abbiamo parigiato tante partite rimontandole ma potremmo probabilmente anche vincerla l'ultima partita che abbiamo giocato con tante occasioni abbiamo avuto quindi l'atteggiamento nostro non deve mai mancare come dicevamo prima ma dobbiamo essere più cattivi in fase realizzativa e più attenti in fase di non possesso dove abbiamo concesso troppo le nostre qualità non devono diventare un nostro difetto chiaramente portando molti uomini sopra palla rischiamo appunto di creare qualche difficoltà alla difesa che spesso si è trovata a difendere senza nessuno schermo quindi questo potrebbe essere una difficoltà al di là degli interpreti perché dopo alla fine non è importante chi giochi ma è importante quello che il ragazzo va a fare in determinato ruolo quindi è un discorso di squadra sempre sia quando attacchiamo facciamo bene ma anche quando difendiamo quindi al di là dei nomi e degli interpreti secondo me è l'atteggiamento come dicevamo prima che deve migliorare in entrambe le fasi migliorando la fase realizzativa sì ma anche per dire un possesso dove tutti devono dare una mano per me come ti posso dire i protagonisti sono loro la squadra è il protagonista non è allenatore per cui se parto da questo presupposto la squadra è il protagonista quindi vanno ascoltati vanno aiutati è chiaro che comando io è chiaro che la responsabilità è la mia e comando io però loro non possono non possono non essere un tutt'uno con loro mi confronto confrontarsi è una parola grossa vuol dire comunque sia magari c'è una scelta da fare magari gliela comunico questo sì perché a volte i ragazzi a volte possono anche non capire perché giustamente il giocatore passami il termine il giocatore è egoista il giocatore pensa ovviamente a sé a differenza dell'anatore che giochi tu o gioco io l'importante è che la squadra vinca quindi questa differenza sostanziale che c'è tra me e loro l'obiettivo comune è che Pescara vinca con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti